Ho sentito pure io scosse elettriche stavolta, questa riprogrammazione, però l'accento più forte per me stavolta è stato sul rilascio di vecchie memorie, ma a livello razionale non so di cosa si trattava, però ho sentito forte il rilascio. Infatti ho sentito, avevo la coperta addosso durante tutto il processo perché sentivo freddo, avevo bisogno di rilasciare e di sbagliare tantissimo, mi è rimasto impresso forse più delle volte quando siamo arrivati al momento del punto zero, quando Ana Maria dice punto zero, là proprio mi è arrivata quella scossa elettrica.